La tua casa è piccola ma carina, Jack. Ti è permesso parlare lungo il percorso. Credevo che ci fossero delle regole. Mettiamola in questo modo. Pochissimi fanno tutta la strada senza proferire una parola. Ma andiamo avanti allegramente. Non credo che potresti dirmi qualcosa che non abbia sentito in precedenza. Ops, forse è stato uno sbaglio. Cosa è stato uno sbaglio? Salire su quest'auto con lei potrebbe anche essere un serial killer. Scusi ma... Lei sembra proprio esserlo. Scusi ma... Scusi ma... Scusi ma... Beh, credo proprio che dovresti. Nessuno vuole dare una mano! Alcuni affermano che le atrocità che commettiamo nella nostra immaginazione sono desideri nascosti, che non possiamo realizzare nella nostra società civilizzata, quindi li esprimiamo attraverso la nostra arte. Non sono d'accordo. Io credo che l'inferno e il paradiso siano la stessa cosa. L'anima appartiene al paradiso e il corpo all'inferno. Quando penso a tutte le cose che ho fatto in vita mia, senza essere stato pulito in alcun modo. Dakota Johnson Dakota Johnson si è allenata per ben due anni per prepararsi al suo ruolo in Suspiria. Poi una curiosità che è presente nel film. C'è un cartello all'inizio del film al lato sinistro della stazione ferroviaria dove sta camminando Susie e su questo cartello c'è la scritta Suspiria. L'avete visto? Vi è piaciuto? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Per altri video curiosità cliccate qui a fianco a me poi ci trovate anche su TikTok trovate il link sotto in infobox. Ciao da Valeria.